Le elezioni comunali di Augusta ormai sono prossime, il 31 maggio e il 1 di giugno si andrà alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco. Siamo con il candidato del Movimento Politico-Culturale Cambia Augusta, Giuseppe Di Mare. Di Mare, la sua riproposizione come Consigliere Comunale dopo l'esperienza traumatica della scorsa legislatura? Traumatica relativamente, chi fa politica e la fa 24 ore al giorno e la fa per 365 giorni all'anno, poi il cuore che batte e la passione che ti fa fare tutto. Quindi traumatica probabilmente per come si è conclusa, però proprio da quel modo di concludere nasce la voglia di rivalza, la voglia di far capire che effettivamente poi chi la politica la fa perché si vuole spendere non ha nessuna remora, nessun problema. Anzi direi oggi a maggior ragione ho ancora più voglia di metterci la faccia per migliorare questa città. Molte le sue battaglie nella scorsa legislatura è stato uno dei protagonisti più presenti in aula, uno dei consiglieri che ha presentato più mozioni e interrogazioni. Quali sono gli aspetti principali del suo programma che lei vuole riproporre anche in questa legislatura? Certo, guarda il volantino che ho ideato riassume quello che hai detto, tante interrogazioni, 12 no al bilancio, 17 emendamenti. Non sono il frutto di un caso, sono il frutto di un'attenzione costante al territorio che ha guardato un pochino a tutte le problematiche, anche il frutto non solo di dire sempre no al bilancio ma di proporre delle soluzioni. I temi più importanti per questa città è facile dirlo ma io direi bisogna dare attenzione a quello che vive la città, guardando soprattutto alla capacità di chi amministra di voler stare vicino alle classi in difficoltà, guardando anche al rapporto con la zona industriale, guardando a quello che si può dare ai nostri giovani in termini di sport, si potrebbero aprire tante pagine. A me basterebbe dire io posso promettere di continuare a mantenere lo stesso impegno che per cinque anni ho messo, con lo stesso entusiasmo e con la stessa passione. Lei parlava dei giovani ovviamente, sono molti temi legati e riproposti anche dal candidato a sindaco Marco Stella che ha proposto lo sport, la cultura. Come intendete intervenire in questi campi? La rinascita di questa città passa dal rinascita sportivo-culturale. Si può intervenire in questi campi in due modi, in un modo guardando all'oggi e in un modo guardando al domani, cioè ci sono dei progetti realizzabili nell'immediato e noi presenteremo proprio dei progetti realizzabili nell'immediato e poi dei progetti che vanno realizzati nel medio-lungo termine. Quindi noi, una delle priorità medio-lungo termine è il campo sportivo. Non si può pensare che in questa città non ci sia il campo sportivo. Culturale, eventi culturali che attraggono le persone nel centro storico, nella borgata, a Brucoli. Ci sono delle cose che hanno suggerito si possono fare a costo zero e che metteremo nel programma elettorale dove noi diremo faremo subito queste cose, cose a costo zero, che si possono fare, eventi culturali, eventi sportivi, dando anche voce, spazio e disponibilità alle molteplici realtà che ci sono presenti ad Augusta, che grazie a Dio sono tantissime.